. Va bene, camerata? Ciao, ciao. Avete visto? Stega rogna. Ci abbiamo messo 80 anni per fare l'Italia. E adesso questi te la distruggono in un giorno. Voi che pensate? L'ammazzano quel povero maresciano. Per forza, a meno che non aderisca all'esercito fascista. Mocche, moche, quello non aderisce. Oh, dico, è un carabiniere. Poi non so, ma ho l'impressione dalla faccia che sia degno della divisa che porta. Io aderisco incondizionatamente. Credere, obbedire e combattere. Marciare e non marcire, dico bene?